ciao a tutti eccomi con la nuova ricetta del giorno io con questo freddino mi viene proprio voglia di proporvi una bella pastina da minestra quindi iniziamo subito nel vivo della ricetta mettiamo giù 100 grammi di farina andiamo avanti un nuovo da 60 circa ricordatevi sempre di vederlo prima quindi di aprirlo e controllare da eventuali residui di goccia poi un pizzichino di sale andiamo avanti andiamo a posizionare il misurino e giriamo la vanopola per iniziare il nostro impasto di un minuto ok adesso andiamo avanti e ci dice di metterci giù un cucchiaio di farina quindi prendiamo un cucchiaio andiamo avanti riposizioniamo il misurino e giriamo a velocità 5 per 5 secondi se necessario ci dice ancora di frullare per altri 3 5 secondi a velocità 5 controlliamo direi che il nostro risultato è perfetto adesso io la metterò qui dentro perché la utilizzerò in serata quindi la lascio un attimino così chiusa in un canovaccio altrimenti la potete utilizzare subito ok buon appetito se vi piace la nostra ricetta potete metterci un like e soprattutto seguirci sulla nostra pagina facebook e canale youtube bimbi come fare grazie 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 grazie